Luigi Castagna, una doppietta per te, una partita magica, si direbbe hai cercato la ciliegina sulla torta del terzo gol, una giornata che ricorderai? No, al di là del gol l'importante era ritrovare la vittoria che non ritrovavamo da un mese, era importante fare il risultato per il morale, per riprenderci un po' moralmente. Sappiamo che era una partita difficile perché il derby è sempre una partita difficile, sono contento per il gol, ovviamente, potevamo fare qualche gol in più, però per il resto va bene così, l'importante è non aver subito gol e aver portato il risultato a casa. Il messaggio migliore è un messaggio lanciato al campionato, l'ischia c'è? No, l'ischia c'è, c'è sempre stata, possono capitare durante l'arco dell'annata che alcuni risultati non siano positivi, non era un dramma i tre pareggi consecutivi, però, ripeto, era importante in questo momento ritrovare la vittoria per ritrovare quell'entusiasmo sia noi che per i tifosi che giustamente ci seguono in trasferta, in casa ed è giusto che loro vengano primati. Abbiamo fatto un po' di riposo anche perché abbiamo fatto un po' di gare tra Coppa Italia e campionato, sappiamo che già dalla settimana prossima comunque ci sono gare difficili, abbiamo cinque partite consecutive tra Coppa Italia e campionato e non è facile, il mister ci ha dato pure un giorno di riposo in più, fortunatamente, cerchiamo di riprendere questo cammino di strisce positive.